Forse non sapete chi è? La Fontana del Bacchino è stata costruita nel 1665 in occasione della proclamazione di Prato come città. E che il Castello dell'Imperatore, conosciuto anche come Fortezza di Santa Barbara, fu costruito a partire dal 1248, è l'unico esempio di architettura sveva presente in Italia centrale. E forse non sapete che, al Museo del Tessuto di Prato, viene proiettato il primo film in 3D sulla lavorazione del testo. Un viaggio fatto di sogni, passione, energia. Si avvertono i signori spettatori di spengere gentilmente il cellulare. Rispondi. Pronto, si, ti chiamo dopo, ti chiamo dopo. Sarà meglio. Sarà meglio. Rispondi. 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 Rispondi.